danno 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 no danno non c'è danno e niente scuola fammi vedere un attimo danno posso saltare si si starta starta figa un quarto duro che ti cerco ah ok che io sono troppo poveri che io sono troppo poveri per avere porco sono costretto a bere pepsi c'è la cola la monster bulla monster onestante non l'ho mai provato no 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 danno 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 voglio tornare alla mappa di prima voglio tornare alla mappa di prima farina uova no danno voglio tornare alla mappa di prima se che vuoi sembra un dildo se la guardi c'è la pancina la città c'è la città c'è la città c'è la città per il cioccolato di tagliare tagliato il cioccolato io sto cadendo ok per ora dobbiamo solo fare questa ricetta c'è la città c'è la città c'è metteria 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 la città c'è oh no oh cazzo io ripeterei nella prima prima tanto merda il piatto guarda la prima guarda io voglio dio sverlo ma son caduto io son caduto lascia la madonna il glitch alla danno ma perchè non hai messo la farina perchè non c'erano le scale alzarono la renderla ah ok ora c'è la fila l'ho già detto che sembra un dildo la macchina qua si ok comunque andiamo a donare 10 euro a wikipedia donate a Johnny si esatto stronzo donatemi soldi bastardi togli questa faccina qua allora uno senza è stato pronto un altro senza ciuffolato quindi un uovo cosa vuoi un pancake con le uova no ho messo doppia farina ho messo doppia farina ho messo doppia farina ho messo doppia ok uova questo qui è pronto no i need de piatto no no perchè l'hai buttato ho messo io sono passato qua c'è la farina davanti sotto sono passato si spinta è entrata dentro ma la farina posso tagliare la farina con il cioccolato uno senza ok io non sto pensare via ah ma prende anche le padelle si deve prendere anche le padelle ah quello quello col cioccolato ma dai buh ci mi sei piattita lavare se ti interessa ah perchè ah perchè figo oh detendo i piatti te ne puo ci provo sei ok io provo a vedere se riesco a farlo che culo che culo madonna eh serve cioccolato tieni il cioccolato bastardo ah se ma devi tagliare ti ricordo vero eh serve padelle non so dove hai lasciato le padelle eh una è qua l'altra è su eh ah metti qua servite quattro fruttento metto questo qua questo qua è pronta serve de piatto io con mi one de piatto uno col cioccolato ok ah che un po' eh quel quello lo potete di prenderlo ok per il cioccolato prendito 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 ti ho già tadosso la roba scusa ok io prendo cioccolato eh ci sono le cose pronte pronto cosa che pronto ah eh padelle 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 oh no sono un pirla e tanto no qua serve il cioccolato e io qua bene mad 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 no attento quello che dici attento quello che dici che sono in live ah fuck hai detto qualcosa di ciao già per sparare un bel ehm ehm johnny non fa ah johnny sei negligente ma ti giuro che ti settecento se ti sento nominare ancora una volta la negligenza io giuro che ti sparo in gola forco d c'è l'ho messo tre volte sul piatto dice serve il piatto va a morire di cancro eh johnny allora sei un necromante johnny ma dio porco di un cammello serve un altro piatto lo puoi dire cosa di cammello se no dovrebbe sembi in generale sì e niente eh vabbè ho una pentola ho una pentola ma anche la signora una pentola ma penso che abbiamo fatto tre stelle penso che abbiamo fatto ogni ma lavare l'ultimo piatto e no da un attenzione tipo baggatissimo però penso che abbiamo fatto tre stelle eh sì sì a voglia ma di brutto proprio eh sai che mi è piaciuta stamattina a parte i portali che sono tutti storti sì sì certo adesso vedi appena c'è la roba più complicata da fare con sta cazzo di cosa che poi devi anche cuocere al vapore voglio voglio il panchica il cioccolato frago la pesce e il tacchino tutt'asse no una cosa che però devi farlo senza dare le mani coi piedi oddio oddio pfff the forest no 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 abbiamo appena finito di giocare a the forest no she's the best i don't like the best i guess gas ui gas fring ah vedo tipo non può finire bene che ingredienti sono non può finire bene sono quattro no no ci sono anche tipo delle breve e che ingredienti ah pasta ah oh no oh no oh no aspetta io po' non posso ah ok mettila anche te allora quindi così anche per là giusto però dopo ci servirà a metterla in centro allora ci serve sta roba cosa ah la pasta ok metto la pasta in centro metterla più e poi tu devi tagliarmi i fondi serve più in qua portami qua portami qua portami qua portami qua danno bisogno di te ah è vero aspetta ehm così va bene no no te devo qua in fondo qua qua che c'è il cittadier tagliarci la roba eeeh 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 danno poi ho bisogno di te devi tagliarmi della roba retta che mi già ci faccio solo danno perchè perchè ricominciamo ah mi ha perso il punto a mettere la posta di piattaforma allora tu devi metterla esattamente come la metto io aspetta ok il problema è che tu mi devi tagliare i pomodori adesso eh lo so adesso posso prima non potevo ok ah ok ehm tagli quello poi mi devi tagliar pure i funghi quello proprio e poi sapeva lanciarli funghi è vero che esiste la meccanica del lancio cosa perchè pomodori scusami pomodori quando accorti pomodori non lo so se fanno cotti pomodoro se oh cazzo vero per il fatto al secondo vai alla leva io ti ho l'amore la leva la pazza patata ma se lo spesso pittaforma con un piatto di pasta anzi dio cammello ti insegno una tecnica no con il suo troppare piatti la buona sua pittaforma ah è vero dipendi l'altro ma la studio è là ok e mettimi a camera vai ok i funghi 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 lo so ma devo cuocerli ehm in un frattempo cuoccio posto lascia meno per un'altra cosa di funghi aspetta cazzo se ok cazzo 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 non lo so però aspetta ehm vai 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 dove vuoi ok ehm bombe che dice il mappo di merda porto credo che il fatto ma stessi no ok scuola e il cuore di un uomo e il giocatore di ttp il cuore ma mai sposto risposta 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 di non per far nient'altro vabbè anche questo prodotto o vabbè pongo ehi forse neanche una ricomincia ok aspetta prima prima metti un attimo in pausa fammi vedere una roba ok no ora a pentuma e son metti a allora io mi serve uno con pomodoro che metto dentro da tre easy e funghi ti servono piglia e funghi o che se ne sono uno pronto di pasta portalo o metterci due sulla aspetta no no allora ma non mi fa oh portami qua portami qua ok fammi tornare indietro ok ok no no danno che cazzo fai e poi questo ok vai vai io torrò ma portami qua adesso fammi vedere cosa hanno scritto in chat non so perché ma nella overcooked 2 non c'è nella non mi porta se ti porto ti porto porto dicevo nella categoria non c'è overcooked 2 perchè non non c'è tra le categorie di Twitch perchè a quanto fare non ci c'è con cazzo di nessuno e capisco il perché portami verso l'alto oh let's go let's go ok ora let's go pip 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 puoi portarmi la piattaforma in posizione più vantaggiosa grazie che la vp atti nel frammento allora c'è la carne mi servono funghi e pomodori aspetta allora i funghi te li lancio ora pasta c'è della pasta qua posto qua ho bene neanche solo due pronte ho anche una lava sti cazzo di piatti porco cane porco cane ovviamente ti porto subito ma vabbè portami 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 ok prendi funghi portami 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 thank you oh ok ho bisogno di lavare piatti aspetta quale portale portale ho portato la mia cazzo con la carne e poi mi gesti che non sta fermo il suo sasso a aspetta ti servono funghi no però no ma non c'era già 30 secondi porto ti porto ti porto ti porto portami 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 ok ok serve 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 con la carne ah cazzo i piatti ok portami portami carne carne niente ok l'ha già cazzo i piatti tu mi sono ok dai una stella vai vabbè 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 Cioè, nella categoria c'è Overcooker 2? No, però c'è l'Evrospio. Overcooker 2. Ma però c'è segnata la strada qua. Sì, c'è Overcooker 2. Allora, perché mi metteva in automatico coso... Boh. Fatto. No, non me la fa mettere. Oh no, Johnny. Mi sa parkour. Aspetta, 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 aspetta. Prima di farlo, aspetta, prima di... Coglione. Qua, fine. Oh, ora c'è categoria Overcooker 2. Finalmente. Con il gioco non era mai stato in Milano. Era sul serio. Che cazzo è sta roba? Ciolli. Carne e pomodoro. Pomodoro. Il pomodoro 64. Ehm, toh? Te la lascio qua. Uh, bello, mi piace. Puglia pasta! Fiii pasta. Hashtag freeboss pasta. Fiii pasta. Pomodori. Ehm, dopo di essere una qua... Pomodare! Avevano una pomodori. Una qua. Allora. Dove l'abbia? Sei! Ok. Prendi la carne, prendi la carne, prendi la carne, prendi la carne prima che scompare. No, i funghi. Ehm, ho bisogno della pasta e di funghi. Ehm. Facciamo schifo. No, 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 no. Sei! Funghi. Funghi. A poco, a poco, a poco, pomodoro. Ehm, funghi. Ehm, pomodoro. Ehm, allora. Tagli i funghi. No, gli allucinogeni! Cazzo, dobbiamo pure lavare i piatti. Beh. Cos'è sta roba? Ah, ok. Forse è meglio. Che è vero e molto meglio. In tutto ciò... Mi piace come in tutto ciò c'è la realtà... Com'è che come la... Eh, la realtà come la conosciamo che si sta disintegrando. E in tutto ciò noi cuciniamo. Ok, adesso ho bisogno di pomodori. Ok. Nice. Wow, c'è la hoca. Cazzo, i... Vabbè, dai. Vedi quei questi con pomodori. Ehm, carne e... Io ho paura che all'improvviso torna normale e noi tipo cadiamo giù. Ah, io. Ok, metto questi qua. La pasta c'è. Ehm, piatti. Ce ne hanno qua vicino ai funghi. Vai, tu prendi quello, prendi quell'altro. Io lavora gli altri piatti. Togli la pasta dal fuoco. Ok, qua c'è un piatto. Funghi. Funghi. Dai, ce la stiamo cavando bene. Pomodori. Tomi, attento che sono in live. Prima che tu dica qualsiasi cosa. Ok. Danno le cose stanno per tornare normali. Sì. Quindi, stai attento a quello che dici. No! Ok. No! Ancora questa! Ehm... Ah, si serve la pasta. Ok, pomodoro, pomodoro, pomodoro. C'hanno giunto ingredienti? Oh no, c'hanno giunto ingredienti. Me... Merda! Eh, cosa serve? No, capire io tanto pan italiano. Ok, ho bisogno un po' dell'axe, almeno rispondi al punto giusto. Dove che si lavano i piatti? Sì, ecco. Ah, ci sono dei funghi. Mi... 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 Perdono. Funghi. Chiedo... Chiedo venia. Ecco. Pasta. Come si dice. Carne. Io invece non lo dico mai, vor raramente quando mi ricordo e quando devo fare il coglione. Danno, danno, danno la pasta, la pasta! Non si sa... About the bear. Bebe, bebe. Guarda, è il mio joystick! Non dire numeri di telefono, mi raccomando. Cazzo. Beh, va bene. Che sarebbe? Ah? Ah, una con la carne. Quei hai il tuo username. Ah, pasta, pasta, c'è bisogno di pasta. Oh, già, eh, faccio i funghi. To. Io tengo la carne. Eh, Johnny. Aspetta, il piatto, il piatto, cazzo! Sì, sì, sì. Tu. Impiatti, piatti, 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 porco! Vabbè, easy. Tre stelle. Adesso vedi che per fare le tre stelle servono 848. Piatri, ricompati zero? No, vabbè, ma io quando, io quando, io quando... Cosa sono i consigli? Boh, c'è tanto, sempre, po' di punto, i consigli. A post. No, sembra che il mio personaggio stia facendo suka. Esatto, 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 esatto. Sembra che sto facendo suka, 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 suka. Guarda il mio. Sì, guarda il mio. Everybody said about the bird. Bad, bad, bad. Bad is a bird. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Coca-Cola stick. Coca-Cola e spuma. Sei tu dal basso piano. Guardi la montagna. No, la cipolla l'ha presa. Mi è appena arrivata una notifica di shitpost gratuiti che ha come copertina la bandiera italiana quella durante... Sì, quella vecchia con lo stemma dei Savoia. E come il titolo è emoji che alza il sopracciglio e la mano quella all'italiana. Cosa... Bro? Cosa? Nulla, nulla. Ho spedernato il mister cipolla. Qua io quando spederanno le cipolle... E quando... Adesso devi chiamare Dream. Uuuu, uuuu, cazzione, cazzione. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. No, vabbè. Altro livello sulla mongolfiera, contento? Oh, no. Vediamo un po'. Non sembra male. Su FIFA non c'è nessun francese che si attacciona. Ma ma ce la fai a startare o... Tipo Brasil? O tipo... Brasilegno. Pa, 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 pa. Gianni, oggi veni dal Cameron o dal... Rondo? Io vengo dal Porco. Questo livello sembra molto, molto... no 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 farina e uova con me, le carote e il cioccolato ma dio cammello vado per la farina allora la farina oddio uo allora non passa no no qui non passa qua non ce la faccio oh perchè dai ma da quando cazzo che si taglia direttante il favo di miele sono deficiente ho messo due di farina nella stessa cosa ok farina e uovo dopo non lo voglio ora perchè sta un tuo fuoco qui e johnny non sai come metterla in forno oh merda 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 vai metti il cioccolato sto facendo quello ok johnny no sei trappato no 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 edo io quando 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 niente 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 l'anno perchè la cimile dovunque cazzo no 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 johnny te hai ancora iniziato ad andare eh ah è vero adesso iniziato ad andare no johnny l'hai messo la sfida no gliel'ho messo dentro fa tre eh si easy ma dai ma porco danno io giuro che mo porco mo cos'è no ah 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 hai quella cosa figa oggi oggi mi porto un di quelle bestemmie e cazzo ma non è che le carolose tira giusto cazzo di miele api di merda ma fa culo le api mi tagli del miele fa fa culo Tè il tuo miele, te lo ficco nel culo. No, ma cos'ha creato? Demo messa la uova in loser. Ecco, tu prendi il miele, porco demonio Vai a ristartarla. Cristo santo no no no, noi abbiamo fatto una torta di fa. No no, no, no. Tanti se ne ha siano i nostri clienti. Danno... No, ma perché l'hai ristartata, idiota? Di persone tra lei non hanno visto niente. Vabbè Allora Danno Prepariamo tipo 84 torte È vero È vero Ma cazzo è una gemellata Ah no possiamo farne tre massimo Vabbè Vabbè Noi iniziamo a prepararle Allora Con calma Il tempo non inizia Perché questo qua Perché penso Che dato che è la prima volta Che facciamo le torte Le carte vanno tagliate Penso Eeeh Ah Mi metto a fare un po' di farina Già spito un po' di farina Allora Questo Questa 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 L'ora 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 Sono in live Stai attento Sarve Cosa serve La giusta Mi è la presenza Cianni non è pronto Come non è pronto Ah cazzo Ah perché pensavo di aver preso con l'altra La reina Ah ma cos' spiegaste Chiaro Chiaro Si vede Si 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 Per dirlo Allora Gangsta Allora 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 No 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 Ah no Frigioni Frigioni Tu vai girare le carote Allora Le uova Servono Allora Farina e uova Servono sempre Anche il miele No il miele non Si Si è vero Dove è quell'altra Quell'altra Dove è la La Dove è la La Quell'altra La Ah Ed è meglio Se non dici niente Dai iniziamo a cosare che ci mancano i piatti Si Ah uno senza ogni Sì Quella Sato Dipende Bambini Bambini Eh no In realtà Solo avviatori Esatto Esatto Se non so come siamo su una cazzo di mongolfiera Attacco la fissette c'è quella Con il forno Sono di farina Se riesce Free farina Vai 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 prendo la frina Ti prendo la farina ti ti infarino tutto Sbrigati che Sto tenendo le fiamme Cos'altro serve Beh sicuramente siamo un alcol Minchia siamo Siamo messi bene Già come punti Sto meglio Io sto meglio No 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 Dalla perché c'è solo l'uovo Ehi Posso avere un Un Uovo Perché poi c'è un giusto C'è l'altro ingredienti Tipo Ehi salve Si potrei avere un uovo Ehm Salve De miele De miele Put de miele In de miele E' uno Senza Ehm Pss Oh Manita Farina Appena dieci Eh si La farina La reina E' dopo affronta così da quell'anno Ah pinci cavron Che è quell'idiota che ha messo le robe del fuoco su sta cazzo di mongolfiera Cianni 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 Perdo che devi spegnere non l'è spento Tu stai zitto danno Ah un'acqua e cioccolato Un'acqua e cioccolato Un'acqua e cioccolato Ah Sono in trapana Capita Danno Salva la torta Prima salva la torta Cosa serve dopo Cioccolato Cioccolato Ma prendi Ah farina e cioccolato To il cioccolato Taglia il cioccolato E' volato giù il cioccolato Che cazzo On the wing Eh poi Prendi la farina Prendi la farina Prendi la farina Prendi la farina e taglia questo Dai 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 Taglia questo Muoviti No ma mi hai fatto cadere Non è pronta questa No che trovi 1020 punti Adesso facciamo a farne un'altra Eh no Forse Una Una semplice Però se cosa possiamo farci Dimmi Taglia il miele Eh lancia il miele Lancia il miele Dovunque No 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 Mi hanno fullboxato No no Mi hanno fullbox di più 1093 punti Secondo te le tre stelle Ci siamo arrivati C'è dai Ci siamo arrivati Eh non so perché Santo Massimino Su l'ala Per chi ha due buoni Chi stanno per diventare lui Aspetta 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 Stiro Giozzi che spraya la felice del paul e jolly e no fra il bottone tu le bambini avete visto il bottone triccato mi ha dato un trofeo chiamato cuore e pulsante o no no la palude il fatto che per arrivare alle tre stelle dobbiamo fare 100 punti è preoccupante lo 100 punti chiede l'ore che cazzo dovrà che no no il cioccolato va quello cioccolato di merda fa male no vabbè c'è il kraken o si la farina ecco che si trova di spettacolo te lo fa e ma da non c'è bisogno de e mettere a fare il pancake ma che cazzo ha pure il pancake dobbiamo fare sopprisi i pancake ho capito ma è un fottile di roba no a me mezzo è un ristorante alla vista danno che cazzo di giro è tu 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 no danno non ci giochiamo a tetra come no no mi spiace oltre e ancora più forte allora metti lo metti lo nel forno io lavo piatti prendi 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 dopo di tutto sturdi sturdi noi ne facciamo proprio che ho venduto ok cazzo danno però dobbiamo smettere di spingerci a vicenda la padella per sbaglio idiota anzi stupidotto allora uovo piglia l'uovo po porco taglia l'uovo se cazzo stagione taglia l'uovo io quando taglio l'uovo tv 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 io sono amore che ha fatto che è l'errore l'euro dell'anno fa fin dei euro ricca fa che freddo ma il mio parco toccare vai danno vai danno vai danno infarinami tutto che cazzo fai prendi la farina giovanni 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 quanti spunti si avre per una stella 100 quali tipo 100 qualcosa non ce la facciamo sì che ce la facciamo credo eh tutto farà quello oddio è vero forse non ce la facciamo fare danno porca puttana dobbiamo smettere di dispingerci non c'è neanche toccato ci sono come gesti che è impossibile non c'è neanche toccato oh no danno vai prendere la torta 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 corre 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 su quali piatta la metto su quali piatta la metto azzoo colore 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 da 123 abbia fatto su nooo i very good when you're like this black anche ogni giorno no oggi mi sento così danno adesso parte il tryharding estremo e sudato su overcooker 2 c'è i mori con le bolle verdi cos'è che ho? è il mio moricone? i mori con dei bollini verdi aspetta devo mettere il portafortuna come chef nooo porco cane hai ragione anche io ho passato su venerdì un sabato e una domenica con tre donne su venerdì ascolta maxi il processo che ha sconfitto la mafia guarda chi sono ora una persona no una persona che non c'entra nulla con la mia personalità l'uovo nooo io quanto il dio io quanto il dio facciamo schifo che mappa di merda io non la faccio più sta mappa fai cantare le visite di piave che mormorava nooo segue mappa questo è il processo che ha sconfitto la mafia ascolta maxi il processo che danno vai a prendere l'uovo anche c'è quello vai 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 questo uomo è gigante eh napoli nooo che che sta fischiettando fischiettando nel sottofondo danno tu merda perchè non si sta cu... perchè non si sta cu... erano pancake questi l'ho visto sembravano una torta ah ah si ma ogni giorno c'è chi ha toh taglia questo allora sono molti da farlo in questo momento però ci posso fare vai 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 ora questa cosa è una torta si si ho capito salmiere è una torta ok salmiera è una torta hai ragione hai raccione dammi dammi uno di farina aspetta prima con segnalo torta no no tra tutte la dai se che faccio di entrare un pancake perchè c'è olio no no danno 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 toglilo 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 bene giallista io sto andando verso il basso mi ha gesticolto uno verso l'altro mi è andando verso il basso niente pancake vabbè a sto punto facciamo quello senza niente uova e fa ma porco 2 america no 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 io sto per sbrattare puttana eva io piango for chiss sto per mettere io sto per mettermi a piangere aspetta aspetta io sto per piangere questa bevanda danno io sto per piangere cos'è con farina e cioccolate e basta nooo perchè america mamma criminal no no oh no no non possiamo cambiare gioco no no cazzo no perché questa mappa io vado in bagno Adesso, ragazzi, è andato in bagno, quindi per me dovrebbe essere più easy, perché Gianni è tutto più easy. Allora, ho pensato che Gianni è un criminale, io no. Madonna, con i miei gesti che hai infatti, guarda che è tutto scassato, farò sta roba. Allora, ho pensato che hai infatti. Allora, ho pensato che hai infatti. Vabbè, è la domanda. Vai Danno, ce la possiamo fare. Gianni, Gianni, Gianni. Ce la possiamo fare. Prendi quel lato. Io dopo questo video, io non cucinerò mai più nulla in vita mia. Ti gridiamo già, saremo ancora in carreggiata. Sì, è vero. Fra, mi sono fatto un culo io. Sono caduto 800 volte con le uova. Sempre con le uova. Porta bene. No, non so. No, non so, 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 non so. Basta, basta. E massarmi il cioccolato. Sarmi il cioccolato, portate il cioccolato. To, 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 to. Fare un po' di arcade, fare un po' di arcade invece che la storia. Ok. Facciamo uno più uno. Ok, no, no, facciamo direttamente. No, uno più uno così, perché pian piano fatteremo il gioco. Ok, dai, sì, ok, dai, proviamo a fare un arcade. Guarda, che te lo fai, bisogna fare. Fammi vedere. Ok, non, 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 no, non faremo mai più, non pretenderemo mai overcooked. No, spero, voglio fare... Come stai ci sono, scusa. No, fammi selezionare lo chef, cazzo. Non voglio fare, non voglio essere statizia. Scegliete a squadra. Dai, no, no, torna indietro, torna indietro. Dai, io non voglio fare statizia. Danno. Danno. Danno, danno, mi molesta. Danno. Ti prego, ti prego, danno, non voglio fare statizia. Voglio essere il procione. Voglio essere il procione in sedia a rotelle, che palle. Sì. Sì, cucina magica, uno più uno. Cucina magica. Cucina magica. Cucina magica, uno più uno. Ma che cazzo? È vero. Ok, fra. Johnny? Aspetta. Sì, ma io ho più roba da fare. No, aspetta. Allora, allora, allora. No! Guarda, 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 tu ero. Aspetta, che cazzo bisogna fare? Aspetta. Che cazzo bisogna fare? Perché stai a dire, sono complicati. Ma perché ci vuole così tanto fare un taglio? Ma perché il bot si muove una volta? Ma perché il tuo bot si muove? Aspetta. Ma no, ma ho capito. Cosa hai capito? Sì, è peggio alla. Che sono un coglione, ecco cosa. Non è vari il pomodoro. Poi quanto cazzo ci vuole per tagliare la roba? Quando tu cadi, tu puoi controllare quell'altro. Ah, perché tu cadi? Sì. Allora, uno con tutto. Do cazzo la metto, mo? Ah, è qua! Ma ditemelo, ditemelo che... Io vedo un parallelepipedo, figa. Penso che è un pilastro, qualcosa di decorativo. No, è un cazzo di forno. Stavo scontando per rubarmi. Figa. Oh no, oh no! Ho sclicato! Johnny, mi hai visto? No. Ma mi hai scliccato! Ho messo la pizza nel forno. Ah sì, Johnny, ok? Ah, no, è stronzo! Cosa sta facendo, Johnny? Stai rubando la... Non so che sei vincendo te, però. Almeno non bisogna lavare i piatti, dai, è il lato positivo. Johnny, stai vincendo te. No! Si, vini, si, vini. Che cazzo... No, sì! Sì! Ma tu, vuoi fare un... Non va per cui si taglia normalmente? No! Zitta, troia! Ma perché si taglia così lentamente? Dai! Solo perché sto vincendo io, eh, figlio di puttana. Ma avete! Mi ha buttato una pizza nel bidone! Quando la pizza c'è sull'ananas... No, bastardi! Bastardi? Chiamo da Reggio Emilia. Sono un assassino dei meridionali. Vabbè... Ah, figlio di puttana, te lo lancio pure giù. Te lo lancio pure giù, ah, stronzo. Ma io li metto dentro la pizza col piatto, cazzo non esce. Non senti il sudore. Vabbè, senti il sudore di... Stai diventando... Tutto grondante di sudore. Sì! Perdafonte! Succa! 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 Basta, adesso... Sciogli casuale, metti casuale. Succhiammi lo scroto. Succhiammi lo scroto. Volevi fare! No, che c'è il copyright. Credo. Ma ancora! Sta cucina magica! Ma com'è? Questo è random! Dai! Come c'è la pizza? Che ci vuoi dire... Otturi, a tagliare la pizza! Ok. Salta, io sono sopra. Oggi no, non ci capisco niente adesso. Manco io! Manco io! Io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, cottura! fangola mamma te. Ma che sì? Potremmo permettere un ingrediente al centro, però anche dopo tu me lo rubi. Al sesso? Chiaro anche. Chiaro bellone. Ce l'avrei stato tipo mai 30 secondi a tagliare due... Oh! Muove te! Taglia sta cazzo di pizza! Ok, ora. L'impasto. L'impasto. Vai a fa' un culo danno. No, io sono lento. Vodo. Io quando il dio, io quando il dio. Salsicce. Salsicce. Salsicce party. Devo guardarmelo, salsicce party. Non c'ho voglia. Oh no, oh no! Sì! Ti fottoli in passo solo per il brutto. No! No, sei aggressivo però. Passivo-aggressivo momento. Se solo si potesse tagliare, tipo... Io sto tagliando, nel frattempo passo all'altro Mino. No, non si può. Solo... Questa è la velocità 1x, non... Cioè, 0,25. Cioè, che... Sì, stai venendo un po' di... Tra l'altro, mi raccomando, chi sta guardando questa live da Twitch, iscrivetevi a YouTube. Chi sta guardando la livella su YouTube, iscrivetevi su Twitch. Chiaro, chiaro, chiaro. E anche su YouTube, ovviamente. Cioè, iscrivetevi da entrambe le parti, ovviamente. E poi, da quando si taglia l'impasto con una mannaia. Cazzo, ne fa stanno la cipolla. No, serve il piatto, cazzo! Sono bloccato. Aspetta. È il piatto. Sì, c'è un Dio. Cioè, no, no, danno. Questo sabotaggio industriale. Bastardo. No, è pomodori. Tometo! Basta! Guarda, mi stai... Mi stai salutando! Figlia di puttana. Guarda! Sei... Dai! Dai che mi fai dire cose che non posso dire! Baffanculo, tanto ho vinto io, Suka. Come ho vinto te, cosa dici? Godo. Ma sono io nel blu! Ah, cazzo. Non voglio più farla, sta modalità. Ok, cambiamo la modalità, viene a essere qualcosa di più figo, tipo che va volante. C'è il che va a questo gioco? Spero di sì. Se non c'è, io mi arrabbi. Poi inizia a fare il shaobelo, shaobelo. Shaobelo. Che c'è Mario, che c'è Mario, amico. Dai, ma io voglio cambiare personaggio, voglio fare il procione. Ah, non mi ha personaggio. Sì. Giù che se ne so starti, mentre sto selezionando personaggi, io giuro che ti spacco la faccia. Allora... Godo! Sì! Succa. No, mi sono pubblica, no, ti prego, no. No. Pubblica, no. Che tipo di sentire i nostri iscritti e ci dicono, fate una foto con noi, e diciamo, no. Vi ho, vi ho giocato, tipo, gioco overcooked con gli iscritti. Cosa vuoi fare? Casuale. Giuro che se ci esce ancora una volta... Se ci esce ancora una volta roba lì di prima... Guarda, cosa c'è? No. No, mentre bevo! No, è questa! Tra l'altro è stata messa quella ribida. È quella di prima! Oh, no! No, non lo faccio, io mi suicido. Nel gioco, ovviamente. Non pensavo che fosse più questa. Ma che cazzo pensavo che fosse? Quella bella che mi ha fatto tre stelle. No, non è quella bella. Cosa, facciamo una cosa. Fai caso. Figa. No, facciamo casuale. Ok. Se esce quella di prima... Ok, non è uscita quella di prima. Se esceva quella di prima, io giuro che adesso andavo in cucina... Brava, brava. E mi mettevo a leccare del sale grosso. Sai che questo è uno degli ultimi livelli. Preferivo quello di prima. Che cazzo è sta roba? Io ti ta 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 ti... Tu ta ta ti ta... Con il cuore mi taglio la gola. Ti ta ta ti ta... Che cazzo bisogna fare? Quella che ti fa tipo tutto te. Alla, c'è me la carne, alla, c'è me la carne. A me la... No, pigliati sta carne... Dimmi... Ma la carne è che mi serve, in realtà. Mi serve più il gamberetto. Il gamberetto, c'erai tu, devi darmelo. Ti l'ho lanciato, sei al centro della cosa. Ah, ecco il gamberetto. Sì, vedi che mi sono nella... No! Se lo fai tu tutto posso... Se devi non... Qualcosa... Ti calcolo... c'è la città la città di la pari si farina fare clic due volte si piaccia no timo verso della roba tu vedi di prenderla o comunque odio la la gente che chiede like l'ex la pensi come me o città attento quello che non c'è papà da papi che dolore lancinante oltre passo altro maledizione visto passando il che le carote non c'è un piatto porco dio scusate mi serve gamberetto che ti lancerò figa mi è partito quasi il porcone non volevo scusatemi johnny manda per il piatto siii gamberetto to sto avendo dei momenti ti giuro basta basta faccio dei piatti sto avendo la 104 selettiva che vuoi che ti dica fra piatti piatti io quando piatti farina 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 il 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 i tento a creare quello che dici perchè sono in live che c'è? ah hai tanto crisco dai non dico nulla esatto carne vuoi esserci anche tu in live oppure vuoi che ti muto no no toh pigliati la farina va mi sai che carne hai detto toh tieni la carne e anche un po' di farina e dopo 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 carote carote ok ok allora tieni la carne e la farina no Johnny metti 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 Johnny c'hai del cicloriano da mettere via e la farina Johnny è un piatto pronto è un piatto pronto da dare oh cazzo no 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 dai passi piatti dammi piatti 420 abbiamo fatto aspetta nooo di 20 punti no 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 oh 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 questo non è già fatto questo è il tuo livello secondo scusate scusatemi ragazzi m ma non è una storia di tutto il terriso come sempre ma ok o sono tutti gli ingredienti che i figli non sono stati uguali vabbè basta fare spam la stessa roba vabbè fai tutti gli ingredienti levati squalo di merda sei un brazzista contro gli squali vabbè anch'io squali di merda vaffanculo ho giocato troppo tagliatelle al sushi tagliatelle al sushi io sono occupato ti giuro danno non so te ma io ho sentito tagliatelle al sushi che cazzo è diventato sta live oddio da 3 da 3 ho messo in tutto 3 no il sushi fanculo tieni tu il pesce ehi uo ehi uo ehi uo ehi uo ehi uo ehi uo voglio quando io quando riso mi ha riso no ma lo do sempre vecchio sempre in mezzo certo che i vecchi bisognerebbe meglio che non mi esprimo è letteralmente mettere a spam la stessa roba mi piace è divertente egli sapessi bello si ogni giorno no eh ci si può sempre sapere in mano ma che che ok so ciflesco so ciflesco so ciflesco so ciflesco maschini so ciflesco questo 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 riso riso toh toh ma che faccio un tiro da 3 riso uo eh 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 ti prego ti prego prepara altri piatti ti va a fare il record mondialista uo eh uo eh uo sp uo eني uo apa uo eeh uo o uo est uo uo a uo c uo in vera signora perché devo andare avanti quei livelli quando vogliamo il quadro procedo questi livelli perché non ci vogliamo anche accendere se le stelle no le stelle non servono un cazzo soldi in sto gioco le stelle pure ma le stelle si sono entrati stelle scopre che non so a livello tutti i livelli ha una stella a qui non potrei andare avanti perchè ti servono tutti stelle rapide acquolina il mio tema preferito jacobino ha chiesto di seguirti dai basta che Puglia ha in fiamme nella descrizione no in fiamme ovviamente noi scherziamo non pensiamo davvero che la Puglia dovrebbe prendere fuoco ma tutto è sull'italia la luna web aldinone scherzo controlla la vista richter domani nonno però io trovo al di non è un posto fritto se c'è stato un lavoro di non dirci vabbè quelli prianzoli ancora peggio e poi mi piace questa mappa cos'è sta cosa 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 dovremmo cosa ma perchè perchè c'è le bombe è un attentato aaaah ok ne ti prego no attentato al famoso duo culinario che cazzo come si gioca io che cazzo è sta roba per me ne metto a mettere il ghiaccio in pentola metti il ghiaccio in pentola chichi no c'è di aiutare che hanno te lasciamo gli occhi alle folle da metti questo tramite il bottone verde in fondo capila tante volte ti prego aaaah se dobbiamo sciogliere incendio aaa you che cazzo bisogna fare ricac אח tes ma c'è 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 res non so me non so come si fanno le bibite Guarda che ingredienti ci chiedono Ghiaccio, latte Dove sono i wurstel? Dov'è il latte? Dove sono i wurstel? Dov'è il cioccolato? Ma sono qua Ma sono alato Danno Alato Ma porco siamo degli idioti Danno il latte dalla me O al tuo padre Gimmi del latte No no Questa è cacana Bis Posso tagliare l'estintore Si è tagliato Che cazzo è sto E dopo dobbiamo frullare tutt'assieme? Regalo la roba alla folla Hai preparato le pipite? No io sto regalando roba alla folla Ah ok io Io metto questo Regalo pane alle genti Ah qua wurstel Wursel Mi metto il giro nel frullatore No È vero Una mappa di merda Non ti ha spiegato niente Ma infatti Grazie a cazzo dovrebbe essere tipo uno degli ultimi livelli Proviamo ad andare avanti con la storia No Ok Comunque danno il giro Ti ricordi che livello ci manca? Si Io dopo questo video basta Io non Io non No Io non cucinerò mai più nulla in tutta la mia vita Adesso sceglierò il tema mio preferito cioè il Gli avvenitori di Vitello Ti prego gli avvenitori di Vitello Sì Vitello 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 Tutti e due va bene Ok Vitello tornato Vitello 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 Cambiamo map Cosa c'è? No 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 Ho capito ogni tanto che gli foto si accendono Questo di un dio Già ne ho capito con i foto che si accendono mentre ti si spengono E quindi noi dobbiamo osasuna nuca sarinde Però Così che dobbiamo danno? Vitele voglio Ass Tae Sì ho visto Scusa Ora ti sabato Posso cuochermi anche io ti prego Dimmi di sì Dove sono i piatti? Sì consiglio Di un piatto Vogliono cockporn no 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 quando soffri ah mi serve beve? coccoporna mi sono piaciuto come si dice coccoporna non vuoi vero che c'è il proprietario che è grande e c'è da tutto un catto minuscolo perchè non volevo coccoporna io mi sincero che non volevo dunque non sono andato a fuoco si non me lo frega un cazzo sto cazzata mi ha fatto troppo ridere se non l'ho detto al boss ahahah 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 coccoporna ah io l'avevo i fatti così posso vabbè se li lavo così i piatti ma io adesso ho modo di lavare i piatti e io li lavo ah qualunque sono noodles minchia un genio sei cazzo ahahah ahahah ma che sai Crembo Cuoce bastardo Mi sono rotto di sto Sì anch'io Mi sono rotto di questo gioco Sì è vero Cambia in gioco Allora io direi di cambiare gioco ma rimanere comunque in live Eh lo so vabbè dai Comunque facciamo un'altra live Subito dopo in un altro gioco Ma che gioco E che gioco Sì Ma anche adesso Dan Sì dai Live su Live su Deepcock Galactic Tu danno ce l'hai Deepcock Cookporn Assolutamente sì Assolutamente sì Oh ma come Cazzo si faceva a disattivare la live Cioè chiuderla live solo Da PC Oh ma come ho visto però No Come po' No 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 Vabbè Tipo tra 4 secondi